danza davanti alla telecamera per 10 secondi a sabbie sudate per eseguire questa challenge ci dobbiamo regare ovviamente a sabbie sudate esattamente in questo punto dove ci stiamo dirigendo ora dobbiamo andare dov'è la gelateria infatti mi sto deltaplanando sopra questo corridoio sopra questo ponticello in legno e più avanti troveremo la nostra telecamera vi consiglio di fare questa challenge in rissa squadre perché dovremo parlarci per 10 secondi e non è facile stare tutto questo tempo sopra questa piattaforma in quanto i nemici ci potrebbero sparare questa è la telecamera in questione andiamo a eseguire un ballo e come vi dicevo ci dobbiamo rimanere per 10 secondi quindi rissa squadre credo che sarà che sia la modalità più indicata per eseguire questa challenge esattamente davanti alla gelateria di Mastro Fedez in questo punto della mappa eseguitela anche a voi vi darà 35.000 punti esperienza ora a me non mi da nulla perché sto registrando questo video in anticipo mi raccomando se anche tu vuoi vincere il nuovo pass battaglia gratis di questa nuova season 3 iscriviti ora al canale e attiva la campanella delle notifiche lascia subito like e all'interno del negozio oggetti nella sezione supporto a un creatore inserisci il mio codice R4SCO quindi anche tu esegui questi 3 semplicissimi passaggi fallo adesso subito all'istante perché io giornalmente sto facendo davvero tantissimi regali ho una skin a vostra scelta all'interno del negozio oggetti oppure il pass battaglia di questa nuova si sentirebbe completamente gratis il passaggio più importante è quello di inserire il mio supporto a un creatore all'interno del negozio oggetti quindi mi raccomando esegui anche tu questi 3 semplicissimi passaggi all'interno del negozio